Ben ragazzi, quindi siamo arrivati ai 900 iscritti e giustamente vi chiedo, cosa vogliamo fare per i 900? Allora, possiamo fare un video tutti insieme, come avevo proposto nell'800, solo che purtroppo i problemi di connessione, non di connessione, di registrazione dell'HDPVR mi hanno mandato a fanculo il gioco, e sì, il gioco è il video, sperando che non dia gli stessi problemi per i 900, quindi ragazzi, possiamo fare un video tutti insieme su Ghost, su Black Ops 2, su GTA, qualsiasi titolo che a voi piaccia e che più o meno hanno tutti, perché non so quanti di voi abbiano tutti questi giochi, ma penso che Call of Duty ce l'abbiano tutti, altrimenti ragazzi, non lo so, se avete qualche altra idea da propormi, io potrei farla sempre, solo che vi dovete dare il tempo, per, nel caso dovremmo fare una parita insieme, di organizzarla, nel tempo che voi avete, e altrimenti di fare, non lo so ragazzi, quello che volete, ditemi voi. Quindi da Cura Novanta è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!